YouTube 100 Music Video Chart La classifica del videoportale. È arrivata un'altra novità nel campo musicale. Negli ultimi mesi, purtroppo, stiamo assistendo alla crisi di una piattaforma fondamentale per il campo musicale, ossia MySpace. Spesso, quando c'è una crisi, nasce sempre qualcosa di positivo. Questa volta, la novità arriva da YouTube, il portale che consente di vedere qualsiasi video. Per chi non lo sapesse, YouTube è di proprietà della Google, ma la novità è un'altra. La novità sta nel fatto che è nata una vera e propria videoclassifica denominata YouTube 100 Music Video Chart. YouTube ha da sempre, in un certo senso, mostrato la popolarità di un artista attraverso il numero delle visualizzazioni del video. In questo modo, il video, portale, offre praticamente dei dati a tutti coloro che devono analizzarli. La classifica di YouTube può rivelarsi utile sia per gli artisti che appartengono alle grandi major, sia per tutti quegli artisti emergenti che promuovono la propria musica, soprattutto sul web. La classifica del video, portale, potrebbe effettivamente consentire agli artisti emergenti una buona possibilità di emergere. Su YouTube non si trova solo la musica degli artisti, ma anche i brani degli artisti realizzati dai fan. Il video, portale, consente l'inserimento di video sia ai musicisti sia ai fan, creando così un'ampia scelta fra i contenuti presenti. Il video, portale, è un'ampia scelta fra i contenuti presenti.